Gli spin-off di Samuel Sterna, racconti dal Derry Lang numero 2, 128 pagine di terrore in olio d'oliva. Wabalaba dab 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 e bentornati su Nomomamazzo, bentornati nella rubrica Samuel Sterna. Torniamo di nuovo a parlare dei racconti dal Derry Lang, il secondo numero uscito questo mese a novembre. Tra l'altro oggi sulla pagina Facebook della Bugs Comics esce anche la mia recensione di Samuel Sterna numero 24, dal titolo Duncan, che voi se mi seguite su questo canale l'avete già vista settimana scorsa. Però dato che oggi caso vuole che entrambi questi video escono lo stesso giorno, volevo dirlo. Approfitto per dire che se non siete ancora iscritti a questo canale, vi ricordo di iscrivervi, di mettere un bel mi piace o un non mi piace a questo video e anche a tutti gli altri che vi frega di condividere il video con tutte le persone che fanno parte di un circolo letterario e di commentare qui sotto con quello che viene parso di questo numero e qual è la vostra storia preferita. Così come nel numero 1 anche in questa storia ci sono 10 racconti, ben 10, non mi metterò certo a descriverli tutti come l'altra volta perché appunto può venire lunga e vorrei fare una cosa un po' più riassuntiva. Se volete possiamo comunque fare una live anche quando vivano, nel senso non per forza in questo periodo, quando cacchio ve pare, in cui magari andiamo più in profondità nelle singole storie. Qua invece vorrei parlare un po' del filo conduttore che viene tenuto durante tutta la cornice che c'è in questo numero che appunto è rappresentata dal circolo Le Horla che introduce questi racconti, ma che viene anche permeata in ogni storia. Sicuramente vediamo i protagonisti del circolo Le Horla che sono molto più a loro agio nell'essere partecipi a questo circolo. Chi prima era venuto per costrizione adesso viene di sua spontanea volontà, chi prima era venuto con titubanza adesso viene con più spensieratezza e questo comincia a rendere questo circolo un ambiente molto più familiare in cui le persone riescono a trovarsi molto più a loro agio che non è il primo, dove non si conoscevano, dove erano molto tutti restii ad aprirsi e questa piacevolezza nel partecipare al medesimo circolo viene poi anche in un certo senso spiegata alla fine del numero e questo dà anche un valore aggiunto al personaggio di Angus. Questo è uno dei due fili conduttori che contornano tutto il numero. L'altro filo conduttore, almeno per quanto riguarda il mio personale gusto, è il fatto che tutte queste storie, o quasi tutte, toccano delle corde che mi hanno, in un certo senso, fatto star male. Nel senso che, se devo essere sincero, lo sapete se mi seguite, io non sono un amante dei film horror, non sono un amante di quelle scene particolari che vanno a scombussolarti le budella. Di conseguenza, io amo l'horror sulla carta stampata, crescendo anche con Dylan Dogg, però è quello il mio limite. Sulla carta stampata, anche a livello narrativo, il mio limite l'ho trovato in questo numero. Ecco, oltre non credo che riuscirei ad andare. Magari, se si tratta di un libro, potrei ancora ancora riuscire a gestire la cosa, però quando si tratta di veicolare la narrazione anche per immagini, l'impatto visivo è stato molto forte. Per esempio, nella prima scena, vedere una povera nonnina che piange sulla sua famiglia appena venuta a mancare, se la ritrova davanti all'uscio, zombificata e non appena sviene per lo shock, viene mezza divorata dalla sua amata nipotina, è una di quelle cose che tocca le mie corde in senso negativo, nel senso mi ha fatto un po' star male. E devo dire che in diversi numeri si tocca un po' l'argomento della morte in modo costante, però devo dire ci sta benissimo perché siamo nel mese di novembre e questo forse è il numero più novembrino che possiate trovare. Come ho detto l'altra volta quando parlavo dei quattro cavalieri dello speciale annuale numero 2 di Samuel Stern, che sarebbe stato bello leggerlo ad Halloween, anche questo è un altro numero che si presterebbe benissimo per una lettura ad Halloween, o in questo caso in una rilettura, dato che ormai siamo a novembre inoltrato. Da abitante di un paesino di provincia con pochissime anime mi sono ritrovato molto nella seconda storia i figli del Grimoro, devo dire che l'ho apprezzata, l'ho apprezzata molto, è un'esasperazione di una fede cieca quasi superstiziosa di un paesino che è un prendente delle povere anime che non hanno una fede alta che va a filosofeggiare sulle domande della vita, ma è più un tifo da stadio. Poi c'è la storia in cui tutti sorridono e questa persona che non vuole conformarsi, l'ho sentita molto presente nella situazione attuale, non che condivida, però l'ho sentita molto presente. La storia dei freak mi ha fatto male, da quanto è cruda. La storia invece più grottesca e forse più nelle mie corde è quella dei gemelli. La storia della porta è davvero interessante, ma un po' tronca, a parer mio. L'avrei preferita con dei risvolti magari più catastrofici, invece ce li lasciano solo intendere. E l'altra storia, quella sul condominio, è un'altra esasperazione della realtà che appunto per iperbole, quindi per esagerazione, riesce a raccontare la cruda realtà di certe situazioni come appunto le riunioni condominali, piuttosto che... Poi c'è un'altra storia grottesca che è quella dello scava fosse, che tra l'altro ci mostra dei personaggi che abbiamo visto anche nella... Non so come chiamarla, nell'introduzione, nel frontespizio, scusate non mi veniva. E infine l'ultima storia è stata un'altra storia che avrei visto benissimo in un Old Boy di Dilan Dog, mi è piaciuta molto anche questa. Quindi storie più grottesche, storie più raccapriccianti, storie più dolorose. Non c'era magari il fantasy che c'era nel primo numero, quindi non ci sono storie su lupi, mannari, vampiri. È tutto molto crudo, è tutto molto vago, anche quando si parla di sovrannaturale. Ma mi è piaciuto molto anche la coesione del gruppo, del circolo Le Horla, che finalmente si è un po' aperto e ha dimostrato che grazie a queste storie, grazie a questa narrazione, riescono a tirar fuori i loro demoni interiori. E dato che siamo nel mondo di Samuel Stern, questo è un vero e proprio esorcismo. Esorcizzare significa comunque tirar fuori qualcosa che hai dentro, che ti fa del male in un certo senso, tirar fuori il maligno. E in questo modo Angus riesce, senza poteri sovrannaturali, senza l'istituzione chiesa che ha Duncan, quindi pur non essendo né un catalizzatore come Samuel, né un vero e proprio esorcista certificato come Duncan, lui con il potere di raccontare storie riesce a esorcizzare il male in queste persone, il male che avrebbe potuto manifestarsi diversamente con la creazione di ombre, con la creazione di demoni interiori. Quindi in questo senso Angus non si limita a creare un circolo letterario, ma a fare della vera e propria attività benefica per questo gruppo di persone, che appunto non sono state scelte a caso, anzi sono state proprio scelte mirate per poterli salvare. Quindi Angus in questo numero si identifica come triangolo a tutti gli effetti della trinità sterniana, che salva le persone dai propri demoni. E questa cosa mi è piaciuta tantissimo perché è quanto di più vero possa esserci nel mondo nerd, quante persone che magari stanno sviluppando un demone interiore, il demone è anche di essere emarginati, di essere diversi, di essere quello strano della classe, che ama i manga, che ama i fumetti, che legge. Adesso non è più tanto strano, adesso è quasi la maggioranza, è quasi la norma, ma qualche tempo fa il nerd era un po' l'emarginato, e quanti di questi nerd di qualche anno fa si sono salvati, rifugiandosi in questi mondi virtuali, che possono essere i fumetti, i libri, i videogiochi, il cinema. In un certo senso quello che fa Angus è la cosa meno fantasy di tutto il numero, la cosa più reale di tutto il numero, perché anche nella realtà quando ci si rifugia in questi mondi di finzione, si va a finire in una comfort zone che ci salva dal nostro inferno personale. Io ragazzi vi ringrazio per avervi seguito fino a qui, come sempre io con l'inchino e con l'imbuto vi saluto, vi dico arrivederci al prossimo video, a eventuali live dove potremmo approfondire, continuate a seguirmi su Instagram e su Twitch, così scoprirete eventuali programmazioni. Arrivederci di nuovo.